Quattro passi di salute nel parco, quest'oggi parliamo di infanzia, adolescenza e le cicatrici del covid, proprio sui nostri giovani. E lo facciamo in questo momento con la dottoressa Antonella Traverso, responsabile della pediatria e neonatologia dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri. Che cosa ci racconta in breve, chiaramente perché poi ci sarà la relazione, su questo documento così importante? Sì, io colgo questa occasione che mi è stata offerta dagli organizzatori un po' per portare il discorso sulla prevenzione. Perché effettivamente noi in questi ultimi tre anni abbiamo assistito a un aumento veramente esponenziale dei casi di disagio neuropsichico nei bambini e soprattutto negli adolescenti. La nostra è una pediatria che spazia da 0 a 18 anni non compiuti, quindi ne abbiamo viste diciamo delle belle. E siccome abbiamo anche un punto nascita, che è un punto nascita molto conosciuto per quanto riguarda la sua storia, siamo stati un po' i pionieri del rumining, quindi del sostegno alla genitorialità, eccetera. Per cui il mio discorso verte proprio su questo aspetto che inizia ancora prima della nascita, già nel periodo periconcezionale e che è importante sottolineare proprio per il peso che ha questo intervento che viene fatto da tutti gli operatori, dai servizi, su questi periodi molto delicati. Perché è lì che si può veramente fare un'azione educativa, culturale, sanitaria, efficace per poi prevenire quelli che sono poi i disturbi dello sviluppo, ma soprattutto quelli della sfera psichica. Cioè quindi il nostro obiettivo è quello di avere delle famiglie, dei genitori che abbiano le loro competenze adeguate, che siano adeguati per lo sviluppo, la relazione che è fondamentale nei primi due anni e poi lo svilupperemo meglio durante l'intervento. Ecco però questo è lo scopo di oggi, del mio intervento di oggi. Ringrazio, grazie mille. Niente, grazie a voi. Buongiorno a tutti.